Malone Buonasera Come sta? How are you? I'm very well Benissimo, grazie Sta benissimo Mi dica una cosa nei confronti di Gianna Nannini Che cosa la colpisce di Gianna Nannini? La voce La voce Temperamento anche? Assolutamente sì anche La migliore in Italia direi Proprio il meglio del meglio Capito? Perché grazie Io la ringrazio molto Dunque recentemente Io si dà un bris E recentemente Grazie a tutti Grazie a tutti